un monaco ad uccidere l'abate. Dopo indagini serrate, la polizia egiziana ha individuato il colpevole dell'omicidio del vescovo Epifanius, capo del monastero di San Macario il Grande, trovato morto il 29 luglio in una pozza di sangue. Si tratta di Shiaia, un religioso di 34 anni che prima, nel corso delle indagini in cui sono stati interrogati 400 tra monaci e lavoratori del monastero, ha tentato il suicidio e poi ha confessato il delitto. Pochi giorni fa, Wael Saad, questo il suo nome da laico, era stato espulso per condotta inappropriata dallo storico monastero nel Wadi El Natrun, 90 chilometri a nord-ovest del Cairo. La terra dei padri del deserto, dei primi monaci, come appunto Macario, a cui è intitolato il monastero che insieme ad altri, da decine di secoli è luogo di preghiera, contemplazione e ascesi che sono al cuore del cristianesimo copto. Amba Epifanius, l'abate ucciso, era uno studioso della scrittura e coltivava l'amicizia con i monaci cattolici. Era discepolo di Matel Meskin, figura chiave del cristianesimo non solo copto del Novecento. Questa vicenda è un duro colpo per i cristiani d'Egitto. Non a caso il provvedimento con cui l'omicida è stato spogliato dell'abito monastico è stato firmato dal papa copto, Tawadros II, che ha sospeso per un anno l'accettazione di candidati alla vita monastica in attesa di un ripensamento complessivo. Un colpo duro perché viene da dentro, forse più duro dei continui attacchi che vengono da fuori, dall'estremismo islamista. Anche oggi un attentatore si è fatto esplodere vicino alla chiesa della Vergine Maria, ad Al-Khaliubiyah, a nord del Cairo. Oltre a lui nessuna vittima stavolta.